Avanti a passo lento verso la salvezza, però l'Ancona è contenta lo stesso del punto guadagnato al cospetto del Forlì. Il Conero un po' meno perché lo 0-0 è poco spettacolare e abbastanza insipido. L'ex Vanigli trova la maniera giusta di imbrigliare i Dorici, primo tempo di alta intensità, poi ripresa in calo. Gli uomini di Cornacchini, non nella loro giornata migliore, hanno comunque le occasioni, soprattutto nel secondo tempo. A partire meglio sono gli ospiti, già al terzo minuto. Melandri prende le spalle alla difesa biancorossa e prova, senza esito, a superare l'Ori con un pallonetto. Partita col 4-4-2 e con Bondi, Tulli, Tavares e Paponi insieme, l'Ancona ben presto si riassesta col 4-3-1-2, speculare agli avversari. Al tredicesimo Paponi ha la palla per calciare, ma si mangia il diagonale e Scotti si salva. La fase centrale del primo tempo scorre via in sostanziale equilibrio, poi il Forlì di nuovo pericoloso con un sinistro da fuori di Pastore. L'Ori ci mette la mano e respinge. Al quarantesimo, di nuovo il portiere Dorico a farsi trovare pronto su una conclusione dal limite di Melandri. Al quarantatresimo è la volta di nuovo dell'Ancona, solita invenzione di Tulli, che va via nello stretto la difesa romagnola, ma manca di mira e la palla si perde larga sul fondo. Il Forlì ha speso tanto e soprattutto vuole portare via qualcosa dalla trasferta anconetana, così nella ripresa si mette a proteggere lo 0-0. Di là l'Ancona prova in tutte le maniere a venire a capo del match. Al settimo, Bondi ci provoca uno sinistro dal limite, alto sopra la traversa. Al ventinovesimo, azione da applausi di Papponi. Sombrero e vole di sinistro, Scotti è prodigioso. L'ultima opportunità è una punizione dal limite di Papponi che sfiora l'incrocio dei pali. Quinto risultato utile e consecutivo, non ancora sufficiente per chiudere il capitolo salvezza. Il vantaggio sui play-out rimane di 10 punti. Il vertice è un po' troppo distante per pensare in grande.